Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia, è lo scudetto! L'Idea ha vinto lo scudetto! L'Idea ha vinto lo scudetto! È un bocciari! Good morning volley! Le pizzo sotto rete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida e campionati. Ed eccoci qui rientrati con una bella edizione di Le pizzo sotto rete. Mia sorella purtroppo ha la febbre, sarà un caso ogni volta che dobbiamo fare uno speciale. Lei pensa bene di avere la febbre. In questa calda giornata di giugno abbiamo deciso di fare questo speciale per festeggiare e omaggiare le messaggerie Catania di questa splendida promozione in A2 e abbiamo ospiti in attesa che l'allenatore Gian Piero Ricano ci raggiunga che per motivi suoi particolari sta ritardando, non è a fare allenamento. Abbiamo qui il presidente, Natal Aiello e il jolly, mi dicono il jolly. Il talismano! Talismano, ora ci spiegherete che non vi state allenando Francesco. No, confermo! Confermi che vi ha dato lo sciogliere delle righe per quanti giorni. Ma, ci ha detto più o meno inizio agosto. Inizio agosto, quindi ora vi dedicherete al beach. Sì, un po' di relax e un po' di beach. Invece il presidente l'ho trovato felicissimo ma un po' dimagrito, presidente. Questi play-off ti hanno... Mi hanno prosciugato in tutti i sensi. Ti hanno prosciugato l'anima e i sensi. Allora, com'è andata? Raccontaci la fase play-off, tutta l'annata, insomma. Facci sapere. Un'annata fantastica, secondo me anche irripetibile. Si sono intrecciati tutti i presupposti. Siamo stati sia bravi che fortunati. Fantastica, è stata un'annata fantastica. Era il vostro anno. Infatti, l'ho detto a fine campionato, secondo me era il nostro anno. I ragazzi sono stati meravigliosi. Staff tecnico, l'allenatore, il preparatore atletico. Soprattutto, sottolineiamo una cosa, che sono tutti i ragazzi di Catania. Tutti i ragazzi di Catania e tutti i ragazzi che vivono di passione per la pallavolo, perché comunque sono ragazzi impegnati nella loro vita. Chi lavora, chi studia, e poi la sera si ritrovavano. E quindi è stato triplamente... Io li ho soprannominati leggende. Per me loro ad oggi sono diventati veramente delle leggende, perché quello che sono riusciti a fare è veramente una cosa straordinaria. Ma quindi è stato tutto lo staff costruito che ha dato questo impulso, insomma, dall'allenatore a Ciccio Litrico, al preparatore, Francesco, come Bic, che ambiente c'è? C'è veramente questo ambiente? Oppure, come si dice sempre, vabbè, c'è la famiglia e poi invece ci sono le magagne sotto. No, siete veramente amici, veramente è partito tutto con questa grande passione? Assolutamente, non è una parola vuota, la parola famiglia, la famiglia messaggeria è davvero allargata. Quest'anno abbiamo avuto uno staff tecnico e un gruppo veramente bellissimo, unitissimo e credo che, soprattutto in alcune fasi della stagione, che sono state davvero difficili e dure, perché è chiaro che durante l'arco della stagione ci sono i momenti... Ci sono stati momenti brutti, ci sono stati. ...e più difficili, dove magari avevamo paura di non riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Secondo me ne siamo usciti da squadra, da gruppo. Ma quindi anche voi avete chiaramente qualche volta litigato nello sfogliatoio, un po' è successo qualcosa, qualche incomprensione, sì? Ma litigi tutto sommato no, però è chiaro che all'interno di una squadra ci sta qualche momento di piccola tensione, però anche il fatto di avere ragazzi magari un po' più giovani, tra i quali chiaramente rientro anche io... Tu quanti anni hai? Io ne ho 24, e magari siamo un po' più focosi, non sappiamo magari a volte gestire benissimo le situazioni, però avevamo accanto a noi un gruppo di veterani davvero esperti. Tu dove avevi giocato, nella tua carriera, da dove... raccontaci un po' la tua carriera. Io brevemente ho fatto tutte le giovanili nella Valle di Catania, abbiamo fatto tantissimi finali nazionali, fortunatamente è stata un'annata, la 93 è abbastanza fortunata. Che è sempre come il discorso del vino, no? Ci sono le annate, questa 93 ha prodotto dei buoni giocatori. Sì, in Under 14 abbiamo vinto il bronzo alle finali nazionali, quindi è stato un bel risultato, e poi ci siamo classificati sempre abbastanza bene. E di quella squadra ci sei rimasto solo tu, o c'è qualche altro tuo compagno? Di quella squadra c'è anche Mario Tomasello, che è con me proprio dal primo anno della Valle che ho giocato con noi quest'anno, e poi a noi si è aggiunto anche Franco Arezzo che lui ha iniziato con noi l'Under 16 e poi fino ad oggi, insomma, ancora oggi, giochiamo insieme. Dopodiché poi sono passato all'Universal di tre mestieri, sono stato da gira e poi... Quindi hai fatto la serie B, insomma diciamo che... Ho fatto per almeno cinque anni, credo che questo fosse il quinto o il sesto, non ricordo... Quindi la promozione in serie A è... Un sogno. Un sogno. Un sogno. E credo che sia la realizzazione, dicevamo, fino ad oggi ovviamente l'apice della mia carriera. E mi rendo conto che sono stato molto fortunato perché c'è chi questo, appunto l'apice della propria carriera lo ha raggiunto magari a un'età ancora più... Certo. E quindi a parte... Quindi tu fai il pallavolista per passione, come diceva il tuo presidente Natale, ma nella vita cosa fai? Studi? Io sono uno studente, sì. Sono laureato in fisioterapia e sono studente di medicina, proseguo i miei studi in medicina. Quindi uno studente a tempo pieno. Sfatiamo anche il mito, quel che si dice, ah, se non si può fare sport perché non si può studiare, invece si studia. Si può fare. Si studia, si fa sport e si vincono i campionati e si va in serie A. Presidente, diciamo che il lavoro comincia ora, continua, come il tuo telefono mi sembra abbastanza caldo. Il telefono, sì. Quindi progetti tanti, sogni ancora di più. Squilla da quando proprio abbiamo finito. Da quando è caduta l'ultima palla e cominciata questa sequela di telefonate. Cosa ti chiedono? Cosa ti chiedono? Innanzitutto comunque abbiamo ricevuto davvero tantissimi complimenti e la cosa più bella è che sono stati tanti e da tutta l'Italia. Proprio in una maniera fantastica l'abbraccio proprio, ho sentito l'abbraccio della gente, ma da tutta l'Italia, telefonate da Trento, da Milano, da Firenze, messaggi sia al cellulare che sulla nostra pagina Facebook, sul sito internet. Veramente qualcosa di eccezionale. che avete trasmesso sulla vostra pagina, ha avuto più di 12.000 visualizzazioni? Forse 12.000 proprio sono le prime. Sono poche, hai visto? Quindi siamo andati oltre da tutte le moda. Le visualizzazioni sono state veramente allucinanti, ma secondo me tantissimo è stata appunto la gara 1 al palazzetto di Piazza Spedini che è stato qualcosa di veramente straordinario ma anche di emozionante. Nello greco a fine partita è venuto da me e mi ha detto Presidente ti devo dare due baci, grazie per avermi fatto rivivere questa emozione. Per me è stata un'emozione unica. Ma guarda, io ti posso dire che anche io quando mi è cominciata la partita... Tu Donatella, hai giocato, hai vinto lo scudetto in quel palazzetto. Esatto, hai vinto lo scudetto lì, ci ho visto giocare mia mamma, insomma ci ho passato 50 anni della mia esistenza e anche io devo dire che ho avuto la pelle d'oca. Veramente mi sono emozionata, anche ora mi emoziono e mi ha fatto piacere essere presente. Devo dire che per certi versi speravo nella gara 3, però... Ma ti dico che questa speranza ce l'avevano veramente in tanti. Io assolutamente no perché veramente fisicamente, mentalmente non riuscivo assolutamente a sostenere una gara 3, sarebbe stata veramente dura in tutti i sensi e sarebbe stata davvero dura anche per, soprattutto per i ragazzi, perché gara 2 è stata lunga, è durata tanto, siamo tornati il lunedì mattina, i ragazzi... Io penso che hanno dato veramente tutto... Ma subito dopo se ne sono andati al lavoro. Esatto, siamo arrivati, siamo arrivati e chi doveva andare al lavoro, chi doveva andare a lezione, chi doveva... Aveva anche le famiglie, qualcuno è sposato, qualcuno insomma... Certo, quindi siamo tornati il lunedì e non abbiamo avuto modo di riposare. Avremmo avuto soltanto il martedì e poi subito il mercoledì, quindi dal punto di vista fisico sarebbe stato veramente... Anche per i ragazzi sarebbe stato pesantissimo. Era una battuta, ci mancherebbe altro. Già l'abbraccio del pubblico a Catania, gara 1, è stato qualcosa di... Ma c'era anche tanta gente degli addetti ai lavori, ho proprio rivisto, come dicevi, Tunello, c'era anche Carmela Bellini che è una mia compagna di squadra quando abbiamo vinto lo Scudetto, insomma c'era veramente il mondo della pallavolo che vi ringrazia, questo è sicuramente. Però, come abbiamo già detto prima, il bello viene ora, quindi grandi sogni, grandi progetti, grandi aspettative. Ora c'è una città che... Adesso c'è una città, sì, che vi aspetta. Che aspetta di vivere questa Serie A e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Sarà un grande impegno sicuramente, sarà una bellissima sfida. La Serie A è un campionato molto difficoltoso e molto dispendioso, ma è anche un campionato meraviglioso. Certo, diciamo che sei, ti affacci già al volley che conta, con tutto rispetto per la B, che è stato un campionato pesantissimo, per la C, per tutti quelli che fanno attività, però arriviamo... Contatti di alto livello, ti approcci con realtà di altissimo livello. Lega, TV, Pala Catania, ma soprattutto anche realtà che hanno fatto la storia della pallavolo, quindi riusciremo a interagire con società molto importanti e non ci vogliamo fare trovare comunque... Impreparati, né fare assolutamente brutta figura, ma d'altronde da quando ti conosco è stato un escalation, perché tu cos'hai, da dieci anni che bene o male hai questa società? 2003 che faccio attività ed è sempre stata, diciamo, la passione che mi ha spinto a fare questo, ma che è stata una passione acquisita, perché per me la pallavolo non è stato il mio sport praticato, venivo dal calcio, sì, ma è stato il mio sport dal punto di vista proprio della gestione. E in questi anni ho davvero fatto tantissime cose, ho avuto anche sicuramente dei momenti... Brutti, perché ci ricordiamo quando eravamo ancora in radio che tu praticamente stavi per mollare tutto e poi arrivò... Il vero miracolo l'abbiamo fatto l'anno scorso, che siamo riusciti a iscrivere la squadra al campionato di B1 proprio all'ultimo giorno... Sì, mi pare che tu avevi proprio mezzogiorno... E la cosa però che mi piace tantissimo ricordare è che proprio tu, Donatella, dicevi sempre nelle nostre interviste la squadra con diritto acquisito conquistato sul campo. Conquistato sul campo, infatti è una cosa che volevo rimarcare, mi dispiace che magari qualcuno la pensa in maniera diversa e questa cosa vi fa veramente triplamente onore, perché in un momento in cui la gente magari compra ti due cose e poi ci siete arrivati tu dal 2003 al 2017, praticamente passo dopo passo, crescita dopo crescita probabilmente anche tu sei cresciuto ovviamente come dirigente, come presidente... Sono diventato più grande, sono più vecchio... Come uomo, sei più vecchio, sei anche papà... Sono anche papà, certo, quindi in questi anni ero un ragazzetto... Certo, non c'hai i milioni di euro che piovono, ma se te li vai... Come tutti, ci svegliamo la mattina per portare la bagnotta a casa... Esatto, sei un lavoratore che sei presidente in giacca e cravatta, sei presidente che il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, bene o male. Ho sempre fatto questo e io mi reputo un gestore di squadra e non solo come presidente, ma anche da team manager, da qualunque cosa, cerco di dare il mio aiuto. Facciamo finta che Natale non sia qua, che presidente è Natale? È un presidente molto presente, molto disponibile per la squadra, non ci ha mai fatto mancare nulla ed è sempre stato pronto a quelle che potevano essere le nostre esigenze. Anche la sua presenza spessissimo agli allenamenti, anche quel semplice chiedere magari ai ragazzi, c'è qualcosa di cui potreste aver bisogno. Certo, mi ha fatto sentire sempre... Sì, ci ha fatto sempre sentire comunque, almeno che la nostra voce potesse avere un interlocutore diretto e quindi la società da questo punto di vista è stata molto solida alle nostre spalle e ci ha permesso insomma... Natale, a parte a te stesso a chi devi dire grazie? Io dico sicuramente grazie a chi mi ha sostenuto, dottore Valente di Massaggerie, Davide Maimone di Arte e Chesco che l'anno scorso appunto... Hanno creduto in me, hanno creduto nel mio progetto e sicuramente questa promozione è una promozione che esce da questa cosa qui. Da questo supporto di queste persone che hanno... Dottore Valenti è stata una persona diciamo fondamentale perché mi ha permesso di poter programmare l'attività come volevo e ho avuto la fortuna di poterla programmare... Di poter fare quello che volevi? Cioè di quello... non che volevi nel senso di dire faccio quello che mi pare, nel senso che ti hanno dato carta bianca, tanto noi crediamo in te... Crediamo in te, ci siamo, porta avanti questo tuo progetto e... Che ora mi pare che si debba anche ampliare, diventa insomma con società satellite, mi pare che arriverà Messaggerie Gravina, Messaggerie... Vuoi un po' ampliare l'anno prossimo? Sì, perché comunque oltre alla prima squadra è di fondamentale importanza il settore giovanile e quindi noi vogliamo creare un'accademia del volley e cercare anche di avere delle collaborazioni come già abbiamo avuto quest'anno, io parlo appunto delle collaborazioni che già abbiamo avuto con il Gravina, quindi abbiamo fatto l'Under 16 insieme, un'Under 16 insieme... Che siete arrivati anche al finale regionale mi pare, con l'Under 18 forse... Con l'Under 18 siamo arrivati sì, siamo arrivati terzi, siamo arrivati terzi e con l'Under 16 abbiamo fatto, con l'Under 16 A perché abbiamo avuto sia l'Under 16 Mister Bianco che l'Under 16 appunto Gravina e abbiamo fatto pure molto bene all'Under 16 con Adriano Balsamo che ha allenato questi gruppi è una grande organizzazione che chiaramente deve aumentare, noi ora ci fermiamo un attimo per dare spazio alla pubblicità e poi ci continuate a raccontare di quest'anno messaggerie Ed eccoci rientrati dopo questa breve pausa, stavamo parlando un po' dei campi che si trovano in giro, insomma loro secondo me in gara 1 hanno patito un po' questo buf o no Taviano insomma secondo me all'inizio un po' soprattutto non aveva grandi punti di riferimento e poi si sono sentiti aggrediti dal pubblico natale secondo te o... Loro hanno secondo me sì c'è stato diciamo questo impatto molto forte del nostro pubblico e del nostro palazzetto gremitissimo però ci hanno a fine gara parlando così con gli avversari loro volevano vincere gara 2 per poter rivivere un'emozione del genere perché anche per loro è stato un momento straordinario Indubbiamente è stato bellissimo giocare con quel pubblico è un'altra cosa perché loro lì forse hanno un campo un po' più piccoletto a 400-500 persone Sì è un palazzetto molto diciamo ridimensionato rispetto a Piazza Spedini che comunque Piazza Spedini non sia non è che sia così così grande che siamo riusciti a mettere le persone una sopra l'altra Certo praticamente l'anno prossimo riempire il Palacatania sarà un po' più impegnativo Sarà impegnativo ma ho capito che comunque Catania ha veramente fame di volley e quindi spero realmente che possa riempirsi anche il Palacatania Ecco in questo momento stiamo vedendo le immagini di gara 1 fantastiche, il palazzetto pieno veramente come ai tempi d'oro purtroppo bisogna insomma non che uno si voglia autocelebrare ma Quando abbiamo vinto lo scuetto c'era qualche persona in più cioè c'era qualcuno un po' più dietro lì 3,3,3 ma era quasi così d'altronde ci sono anche nella nostra sigla di immagini del palazzetto e in effetti era così ed è stato Ha fatto bene Nello a dirti grazie perché anche insomma tutti quanti noi avevamo questa idea che comunque il palazzetto si dovesse e si potesse riempire e voi ce l'avete fatta Ma allora diciamo il tuo ruolo di talismano cosa consiste? Palleggi, schiacci e batti? Che fai? All'occorrenza faccio qualsiasi cosa Qualsiasi cosa? Mr. Rigono mi ha utilizzato tranne il palleggiatore in tutti i ruoli quest'anno ho fatto lo schiacciatore, ho fatto l'opposto, ho fatto il libero quando il nostro libero purtroppo era infortunato quindi il presidente mi ha trovato insomma questo soprannome Poi c'è stato anche questo ritorno di Martinengo che l'ha fatto forse due anni fa con voi poi l'ha smesso e l'altra via in un'altra società e poi è ritornato alla base però lui ha detto che ha finito Vabbè lo dice ogni anno Ah ecco lo dice ogni anno è bellissimo questo comunque tutti quanti Lo dice ogni anno da almeno 4-5 anni Claudio è una risorsa importantissima, la storia della mia società negli ultimi 4 anni ha fatto 3 proporzioni Dalla C alla B, dalla B2 alla B1 e adesso addirittura dalla B1 alla Serie A Quindi un altro talismano Claudio è un giocatore formidabile L'abbiamo cercato dall'inizio della stagione per motivi lavorativi non poteva essere con noi Una volta che poi il lavoro un attimino si è allentato è riuscito a trovare un po' di tempo e da fine febbraio, inizio marzo ci ha dato diciamo una grandissima mano Tra l'altro si è messo al servizio credo anche cambiando un po' il ruolo perché lui è sempre stato insomma negli ultimi periodi era un opposto Mi sembra di averlo visto giocare in posto 4 e in gara 1 gli battevano addosso abbastanza Sì, ma penso che comunque se la sia giocata egregiamente Io credo che anche come carisma sia stato importantissimo averlo in campo Perché poi in queste partite credo che faccia anche molto la differenza chi le partite come questa le ha giocate E Claudio sicuramente... E lui quanti anni ha? 38 38 38 quindi insomma trovarsi una persona di 38 anni accanto Sì, sì Che sensazioni ti dà? Sicurezza 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 e tranquillità Che sono due cose che in una partita con così tanto pubblico, con così tanta pressione sicuramente alla lunga padano Ma ricordiamo anche che c'è anche Piero D'Angelo che ha fatto parte un po' di questo... Piero è il nostro direttore sportivo che voleva dare un rene per giocarla Per giocare alla parte, voleva veramente fare qualunque cosa per poter giocare le partite finali Anche lui ha fatto un lavoro straordinario, si è messo a disposizione della società D'estate, siamo stati insieme praticamente, ci sentivamo 24 ore su 24 per cercare di formare un gruppo importante Ci siamo riusciti e alla fine è stata anche... Tutti questi tasselli tutti li sei andati un po' a ricercare, Piero, Claudio, insomma per avere quel valore aggiunto di personaggi storici Insomma, a parte che Piero credo sia da 4 anni campione d'Italia over, 50, super giù Sì, ha fatto anche i mondiali, non so che cosa Esatto, ne mangia Io ad esempio in gara 1 ho visto che in parecchi time out parlava con Adriano Che tra l'altro sono un palleggiatore di tutti e due, Mancini di tutti e due E quindi anche per Adriano sentirsi dire ok va tutto Sono consigli di una voce esperta Hai praticamente avvolto tutta la tua squadra sotto questo controllo E non dimentichiamo il coach che al momento non sta venendo però anche lui sicuramente Certo, Mister Rigono ha fatto Mister Rigono, sempre calmo, tranquillo, posato ma è così realmente oppure maschera? No, no, lui è veramente così Infatti noi ci troviamo benissimo perché anche io vivo in alcuni momenti di assoluta calma e tranquillità Giampiero ha fatto un lavoro fantastico anche l'anno scorso, il secondo anno E credo che sicuramente sarà l'allenatore anche nella prossima stagione Ha fatto un lavoro eccezionale E' riuscito naturalmente anche nei momenti, ci sono stati sicuramente dei momenti positivi ma anche dei momenti negativi E' riuscito insieme alla squadra, insieme allo staff, a Piero D'Angelo, a noi dirigenti, a Luigi Pulpirenti il vicepresidente Siamo riusciti comunque a mantenere la calma, a risolvere quei piccoli problemucci che potevano nascere Perché praticamente il campionato è stato che voi siete stati per un po' sempre tra il secondo e il terzo posto Poi come dicono in gergo avete messo la freccia, avete acchiappato il primo posto e l'avete difeso con i denti Mi pare andando a vincere in casa della diretta concorrente e che vi ha dato poi il primo posto E quindi l'accesso ai playoff in una maniera un po' più... A 5 fronti Sì perché noi abbiamo fatto un girone d'andata dove abbiamo perso due partite Ed eravamo un po' dietro rispetto alle prime in classifica Poi qualcuno ha perso un po' di terreno Poi ci sono stati gli scontri diretti, appunto lo scontro diretto contro i 5 fronti Che è stata veramente una partita straordinaria in casa La svolta, sì, la nostra vittoria di 3-1 netta Che ci ha permesso di agganciare la testa e la classifica proprio al giro di Boa E poi fare appunto il girone di ritorno Ma è che loro forse hanno perso una partita a Pozzillo, hanno fatto un 3-2 a Pozzillo da qualche parte Hanno vinto 3-2 a Pozzillo Pozzillo, Pozzillo, Pozzillo Sì ma anche se vincevano non cambiava niente Non cambiava niente Però poi voi siete arrivati i primi e insomma avete avuto primi In realtà cambiava per loro Perché chiaramente loro con quel punto perso a Pozzillo non sono arrivati i playoff Che poi all'ultima giornata, in Letoianni, è andato a vincere a Vibo 3-2 E per quel punto sono andati loro ai playoff Praticamente loro sono quasi sempre stati in testa insieme a voi Insieme a noi era appunto Noi e loro ci siamo divisi diciamo la testa e la classifica per tutto il campionato Perché lì giocano cantone, se non c'è Peppe Mosfino non è lì No, Moschaini a Lago Negro A Lago Negro, no Scusate, ho fatto una Giocava, però giocava, due anni fa giocava Allora, vedi, perché io l'ho intervistato Quindi non è che posso seguire tutto Dovrei seguire tutto, ma questa mi era sfuggita E campagna acquisti? Campagna acquisti non è assolutamente una cosa prematura Anzi, ci dobbiamo un attimino muovere Innanzitutto dobbiamo vedere, fare un po' il punto della situazione Capire com'è la situazione budget Perché tu comunque mi dicevi che vorresti tenere chi può, chi ce la fa Perché fare la 2 diventa impegnativo Vorremmo sicuramente dare la possibilità Una settimana, sei, trasferte, un po' più lunghe Tutto sommato la B1, forse all'inizio eravate Perché l'anno prossimo mi dicevi la 2, sono due gironi da 12, però non Nord e Sud Ma l'Italia è divisa a metà, est-ovest? Sì, si fa con le teste di serie Ah, ecco, ci faranno tipo un ranking Sì, si, si, con, appunto, saranno due gironi molto livellati Ma ciò non toglie che magari ci sarà Catania, Milano, Brescia, Spoleto, non lo so, Siena E quando si chiudono le iscrizioni, cosa è la data? Il 7 luglio? Il 3 luglio Il 3 luglio, quindi bisogna, si saprà bene o male chi sono le 24 Sì, il 3 luglio, magari non proprio il 3, probabilmente qualche, una settimana dopo Perché poi dopo le iscrizioni ci saranno i ripescaggi, le cose Sì, infatti, e si sa bene o male quale saranno le 24 E poi faranno la suddivisione dei gironi E poi c'è comunque il closing del volley di mercato che credo sia a metà luglio E ci dobbiamo muovere E tu quindi facendo, cosa fai? Hai detto fai di medicina e fisioterapia E quindi l'idea è comunque di restare poi nell'ambito sportivo? Ma mi piacerebbe, mi piacerebbe molto Ma già i tuoi compagni li curi o ci pensa già Luca? Ci pensa a Gianluca, non lo sconfino assolutamente Non sconfini, tu fai il giocatore, non ti metti, vabbè, anche un po' di pratica, di tira e cinio Osservo molto, questo sì, questo sì Mi piace molto osservare il nostro mitico Gianluca all'opera Gianluca Catania, ricordiamo che è l'osteopata Anche lui fa parte dello staff e anche lui vi segue, insomma, in maniera abbastanza... Lui si è appassionato tantissimo Si è appassionato Ma forse sì, questo è il fatto che siete riusciti veramente a coinvolgere... Non conosceva molto questo sport, perché lui viene dal mondo del nuoto, dalla piscina Ma si è appassionato tantissimo e credo si sia trovato anche a suo agio nella nostra... Chiamiamola famiglia e quindi lo fa con piacere e adesso anche con molta passione Eh, devo dire che comunque... Possiamo dire che è un mondo di soli uomini, cioè non ci avete nel vostro staff No, 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 no C'è qualcuno, visto che le quote rosa vengono rispettate Sì, 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 noi abbiamo la nostra responsabile della comunicazione, che è Mariangela Di Stefano Di Karma Communication, è una ragazza che da quest'anno ha intrapreso, diciamo, questa avventura E anche lei, come Gianluca, è stata coinvolta, è stata proprio investita da questo mondo pallabolistico Sì, ma come si muove una ragazza in mezzo a venti uomini, cioè vi tiene testa... Ma lei è piccolina e quindi si intrufola Quindi diciamo che in mezzo a voi si perde, poi in mezzo a questi ragazzoni si perde Sì, però è stata molto brava, ci ha fatto anche delle interviste molto belle durante l'anno Che usciva poi una sorta di settimanale Sì, perché voi avete certo la vostra pagina Facebook, oramai diciamo che tutte le società Ma comunque la Lega richiede, quest'anno dalla 2, richiede qualcos'altro Cioè già da affacciarsi in questo nuovo mondo, vi ha creato, ci saranno partite in Rai, ci saranno delle dirette Insomma ci sarà un palcoscenico chiaramente da odiare, quindi... Sì, veramente qualcosa di... L'anno scorso hai lavorato 24 ore su 24, non so quest'anno... Adesso sarà... Devo allungare la giornata... Ma anche dal punto di vista proprio burocratico che servono perché la Serie A è una Lega professionistica E quindi è tutta un'altra cosa Dal cambio, diciamo già della società, da associazione sportiva a società per capitali E quindi bisogna cambiare, diventare un SRL, eccetera, eccetera Quindi notaglio... Forse... Dico una provocazione, forse era meglio non salire, ma assolutamente no No, vabbè, scherzo, scherzo Forse ora abbiamo anche qualche altro contributo, forse proprio della promozione Mi sembra, sì, qua siamo a Taviano Sei in campo? Io no In questo momento no Questo sei l'ultimo punto? No No Questo credo sia, o il penultimo... Voi siete questi di spalle dietro qui, questi bianchi Ecco, questo è il quinto set, sì? Sì Sì, sì, questo sì Il quinto set... Ma... Io sono entrato a battere l'ultima palla sul 14 a 10 Ah, sei entrato in battuta? Avevi il braccino No, ero già stato in campo dal terzo set Però Gianpietro con... Aveva già fatto quattro ore su cinque battute Quindi se sbagliava, probabilmente... Sì, perché ho visto che sul match, sul set ball, spesso e volentieri avete sbagliato la battuta Anche sul match point Ah, sì? Perché al quarto set, sul 24-23 per noi, Giovanni Battiato va in battuta Dopo addirittura una grandissima ripresa di partita Perché eravamo sotto Quindi, in realtà, io dico sempre che in questi casi bisogna battere dal basso Tirala di là Tirala di là E invece... Invece lui tranquillo Giovanni è riuscito a... Ha pensato bene A prendere il signore che era nell'ultimo gradone della tribuna E tu cosa hai pensato in quel momento? No, no, va bene Non butto fuori per sempre Qui è finita? No, ancora no Ho visto il libero esultare Però mi pare che forse siamo proprio... Sì Negli ultimi punti Siamo negli ultimi punti Perché il quinto set ci ha dato comunque anche un po' di sicurezza Perché siamo andati avanti Sì, siamo andati avanti Sì, noi seguivamo qui, poi commentavamo Quattro, cinque punti, sempre avanti E quindi ci ha dato quella serenità Fortunatamente perché un quinto set tirato sarebbe stato la fine Sarebbe stata la mia fine sicuramente Ma tu dove eri Natale? Dove hai visto la partita? Dove eri? In bordo campo? Sotto? Da bordo campo dietro l'arbitro la società ci aveva riservato proprio quell'area Ah, qui da parte del primo arbitro, sì Sì, sì Quindi eri lì, all'ultimo punto che cosa hai fatto? Te lo ricordi? L'ultimo punto sono entrato in campo e sono andato ad abbracciare Claudio Martinengo Che ha fatto il punto vittoria Ah sì, Claudio l'ha fatto? Insieme Questo è l'ultimo punto Questo è l'ultimo punto Da Francesco lo ricordo benissimo Sì, sì, sì Andrea Torre esce Ah, bellissimo Allora la viviamo proprio Andrea Torre esce Ucciso quando sono tornato in panchina Però qui tremavano le gambe Qui tremavano le gambe Sì, allora batte Vai, raccontaci l'ultima azione Tu vai in battuta Batte Bricoco Batte Bricoco Sulla pagina come cominciate a fioccare i complimenti Fantastica Bello, bello, bello E ora il campionato quando comincia? Il 25 settembre 25 settembre, quindi il presidente 25 settembre è ora Non ti posso riposare Non ti voglio far venire l'ansia Però ti vorrei dire che Spero che mia moglie non sta seguendo Ma lei viene alle partite, ti segue? Quando può, sì Quando può Viene con quel cucciolo di mio figlio Che è già da piccolo Adesso fa un anno, il giorno 23 È una meraviglia Come si chiama? Roberto Ma viene alle partite pure lui il coletto? Lui era al palazzetto Ed è riuscito stranamente ad addormentarsi Allucinante Beato Quindi non potrà dire Tu c'eri alla promozione Lui era al palazzetto di Piazza Aspedini Era lì Era uno dei 2005 Dei 2005 Bello, bello, bello E quindi 25 settembre Allora faremo sicuramente una puntata di presentazione La prenotiamo già da ora La prenotiamo già da ora Essere dei nostri ospiti Perché come tu ben sai Le pizza portano bene Perché tu sei venuto E sei riuscito a fare il campionato Come no? Hai trovato lo sponsor Noi siamo sempre lì Anche Tiziana che ti segue Ti saluta Le dispiace È una botta di aria condizionata Io lo dico sempre L'aria condizionata fa male Lei non mi vuole ascoltare Aria condizionata Febbre Niente Allora il nostro allenatore Il nostro allenatore Mi tireremo le orecchie Doveva venire Secondo me è alle capannine a fare allenamento Questa cosa Secondo me Aveva un impegno personale Ma Strano perché lui è molto preciso È molto attento Anche perché durante gara 1 Ho intervistato Fico Secco E Casadei La coppia Che tra l'altro Non sapevo chi era l'uno l'altro E ho detto Vabbè tanto la coppia Cammina così Perché allora lui comincia a allenare loro Fa tutta l'estate pure Cioè lui non si ferma mai neanche No Assolutamente Giampiero ha Dal punto di vista proprio pallabolistico Una vita Un pazzo Un malato Un pazzo Un drogato Un drogato di pallavolo Almeno comunque Un'ottima droga Certo Magari Ma magari si drogassero tutti di sport Qualunque questo sia La pallavolo Adesso c'è anche appunto Da preparare questa coppia Ricordiamo che le finali Per il terzo Quarto anno consecutivo Saranno di nuovo le capannine Saranno nuovamente alle capannine La prima settimana di settembre Quindi lui sarà impegnatissimo Perché insomma Se già il 25 settembre Se il 25 settembre Iniziamo Il campionato La nostra preparazione Inizierà Nella prima settimana Di agosto E quindi Certo Si dovrà un attimino Dividere Da tutte e due Perché anche Cicciolittico E' il loro preparatore atletico Di qua e di là Pure lui Un altro drogato Mi è sembrato un altro Che è partito pure Per la tangente Magari prima era un po' Più Innamorato dello sport Di tutto lo sport in generale Ma è questa diciamo La forza comunque Di questa società Perché l'amore Nei confronti dello sport In generale A far sì che Le nostre giornate Sportive Non ci stanchino Perché praticamente Poi anche te Praticamente Facevate tutto il giorno Lavoro E poi l'allenamento Era la sera Alle sette Sette e mezza Quindi A volte anche alle otto Anche alle otto Ti pesa D'inverno Poi magari invece Gli altri escono Vanno a cena Vanno qua Si fanno il capodanno E poi sempre lì In palestra Il primo gennaio In palestra A chiudere Va bene Quindi noi andiamo Verso la fine Di questo specialissimo Messaggerie Che abbiamo Chiaramente tenuto a fare Immediatamente Dopo questa splendida Promozione Vi aspettano tutti Al varco Natale Lo sai Ci aspettano tutti Al varco Però Sono convinto Che la città Di Catania Anche Il movimento Pallabolistico Della città Ci darà Una grandissima mano Infatti Ci aspettano tutti Al varco Ma io aspetto Tutti al palacatania Esatto No ma io ho visto Anche chiaramente Poi si guarda Sui social Insomma I commenti I complimenti Di tutti Ho visto anche Molte società Molti allenatori Molte persone Che io conosco Che proprio Ti hanno detto Noi ci siamo Cioè Vogliamo far parte Vogliamo spingerti Ulteriormente Quindi sicuramente Come dire Aprire un tavolo Per essedersi Tutti quanti E darsi una mano Questo sarebbe Una cosa fantastica Esatto E credo che Questo Sarebbe molto importante È dovuto al fatto Che È una promozione Sul campo E non Non è Una Diciamo Una cosa Fatta a tavolino Il titolo acquistato I diritti sportivi Acquistati Voi vi siete sudati Questa promozione È una cosa sudata Da Tantissimo tempo E quindi Una crescita costante E questo secondo me Fa sì che Le persone Gli addetti ai lavori Comunque apprezzino Ancora di più Il lavoro svolto Quindi diciamo Anche Entrare a far parte Di questa cosa Diciamo Come posso dire Cattiveria Che non è cattiveria Agonistica Degli avversari Cioè Hanno tutti Riconosciuto La vostra Supremazia Cioè Io ho visto Al palazzetto C'erano tutti C'erano davvero tutti E sono sicura Che tutti Ti favano per voi E sono tutti Veramente contenti Per il movimento Perché chi vive Di pallavolo Chi sta sui campi Sa quanto è importante In questo momento Rilanciare Sicuramente Perché Nell'interesse di tutti Perché è chiaro Che più interesse Televisione Chiaramente Ragazzi Inutile che stiamo lì A nasconderci Soldi Perché se non siamo La due costa Non te lo voglio ricordare E non voglio toglierti Il sonno Però Chiaramente è un impegno Cioè È un impegno molto importante E non si può sbagliare Spero proprio di sì Spero proprio di sì Ti vuoi godere questa serie? Sì Dopo averla sudata Sul campo Insomma Sarebbe bello Riuscire a proseguire Il talismano Ce lo portiamo? Il talismano È il talismano Porta fortuna E quindi Ma tu li puoi tenere tutti Li puoi tenere tutti Guardi a turno A turno Insomma Che rimangano Attorno alla tua società Quello che tu hai costruito Mi piacerebbe Come dice Natale Tutti di Catania Tutti insieme Hanno conquistato Questa promozione fantastica Noi Anche noi Come Globus Television E come Le Pizzo Sotto Rete Ci siamo E vi spingiamo Vi seguiremo E comunque Prima del campionato Riapriremo con voi Speriamo di vederci Buon estate Buon lavoro E quant'altro Ci vediamo Al prossimo Appuntamento Con Le Pizzo Sotto Rete Ciao Il pubblico È trasformato In una vera e propria boccia È lo scudetto Dall'idea Ha vinto lo scudetto Dall'idea Ha vinto lo scudetto È un bocciato Good morning volley Le Pizzo Sotto Rete La pallavolo Secondo Globus Radio Station Guida E campionati